Va bene allora facciamo così io metto comunque le diapositive dopodiché non è detto che ne utilizzeremo molte perché questa era una presentazione che ho fatto qualche giorno fa alla società di ginecologia con dei problemi specifici che sono stati molto trascurati quello per esempio del feto che è sicuramente un problema trascurato e centriamo brevemente. Io quello che vorrei fare di nuovo con voi è il punto un po' generale veramente però saltando tutta la parte epidemiologica perché l'abbiamo già fatta insieme credo molte volte almeno immagino che una parte di voi l'abbia già vista tutta la mia presentazione su come la pandemia è andata nella prima fase non credo che ci interessi più di tanto. Faccio il punto noi ci togliamo con le telecamere la lasciamo parlare e raccogliamo le domande. Sì è quello che sto cercando di immaginare vi dicevo io partirei dal fatto che ogni volta di fronte a un'emergenza pandemica e non lo si è fatto ancora ci si chiede prima ma che cos'è esattamente questo virus? Da dove viene fuori? Che caratteristiche ha? Perché io ho sentito fino a qualche giorno fa e in rete non ne parliamo addirittura una persona che dovrebbe essere molto esperta a parlare di un virus opportunista dire che tutto sommato abbiamo esagerato. Ora io sinceramente non lo capisco più perché capisco ancora che a febbraio a marzo qualcuno avesse dei dubbi però a questo punto per tre o quattro motivi non riesco a capire come non si accetti il fatto che noi siamo in pandemia. Prima di tutto che cos'è un virus pandemico? È un virus che ha fatto il salto di specie da poco che viene da un'altra specie. Il genoma di questo virus è per il 96% comunque identico a quello di un virus di pipistrello. Dopodiché e dico in modo laico e in maniera molto credo responsabile io penso che nessuno sappia esattamente se un virus che è emerso dal serbatoio naturale che sono i pipistrelli e sia passato all'uomo in modo del tutto naturale o se sia stato un incidente quindi un rilascio accidentale perché purtroppo nei laboratori in cui si lavora questi virus purtroppo ogni tanto succede e che succeda nei luoghi in cui sono ovviamente più abituati a lavorarci è probabile. Il mercato di Wuhan credo che ormai nessuno ci creda più. La terza ipotesi io molto semplicemente la enuncio perché ogni tanto qualcuno ci torna e io stesso ho evitato finora di parlarne in generale ma siccome perfino Proceeding of National Academy of Science che è il più importante giornale di scienza al mondo recentemente è tornato a dire veramente non sappiamo se non ci sia stata addirittura la possibilità di un rilascio intenzionale io sottolineo che noi non lo sappiamo non sappiamo quindi se è un virus del tutto naturale se è un virus che è venuto fuori per un rilascio accidentale o intenzionale ovviamente a mio parere è possibile che ci sia quest'ultima ipotesi che cambierebbe tutto perché significherebbe che qualcuno sta giocando con la vita di miliardi di persone quindi noi speriamo ci auguriamo che tutto questo sia eccessivo però se lo dice il Proceeding of National Academy of Science lo dobbiamo ipotizzare non abbiamo al momento la possibilità di definirlo perché come voi sapete e questo varie volte l'ho fatto vedere il vero mistero di questo virus è che proprio nella proteina spike e cioè nella proteina che permette al virus di agganciare le nostre vie aeree superiori fin da marzo addirittura da fine febbraio tutti quanti quelli che si occupano di questo virus hanno visto che c'è qualcosina di strano e cioè si è detto il virus per il 96% alla sequenza di un virus di pipistrello che si chiama RATG13 lo vedete qua però prima di tutto questo virus famoso diciamo che è distante da Wuhan almeno mille mille cinquecento chilometri e poi soprattutto in questo virus che ha una sequenza simile all'attuale SARS-CoV-2 non ci sono queste mutazioni quindi queste mutazioni non lo sappiamo ancora da dove sono venute sono fondamentali perché questo virus ha una maggiore capacità rispetto al precedente che come ricorderete era il SARS-CoV-1 del 2002-2003 quello della vecchia SARS ha una maggiore capacità di aggressione alle vie aeree superiori che significa che è diventato rapidamente contagioso e qui faccio un altro asterisco cosa significa rapidamente? È impossibile, io dico proprio impossibile sul piano scientifico che un virus faccia il giro del mondo come sta facendo se prima non ha avuto il tempo di adattarsi alle vie aeree superiori della nuova del nuovo ospite questo è un primo punto su cui io ovviamente non veramente non temo di poter essere contraddetto non può essere in sintesi un virus che è venuto fuori qualche mese fa è un virus che da qualche mese girava del resto ormai è noto che è probabile che fosse già arrivato in Europa diciamo a fine anno scorso qualche studio come sapete tutti dice che addirittura anticorpi contro questo virus sarebbero presenti già dall'estate scorsa quindi da più di un anno questo a me sembra improbabile c'è da dire che è probabile anche che ci siano degli anticorpi crociati quindi tutto questo andrà visto ma quello che intendo sottolineare mi pare che sia importante è che sicuramente questo virus ha le cari caratteristiche attese e questo lo sottolineo ora vi faccio vedere perché da almeno cinque anni era il virus che noi stavamo aspettando purtroppo che ci faccia o meno vi faccio vedere altre due figure di queste disegnate vedete cosa fa un virus per entrare nelle nostre cellule un virus che non ci conosce non entra non ha la possibilità di entrare nelle nostre cellule si deve in qualche modo questa è l'evoluzione di un virus nuovo adattare ai nostri recettori li utilizza in questo caso come tutti ormai sapete utilizza l'ACE2 ma anche questo TMP RSS2 che è un altro recettore quindi ha imparato e ci ha messo sicuramente un po' di tempo a utilizzare questi due recettori per entrare nelle nostre cellule non solo ha imparato nel giro di poco tempo a entrare nelle cellule e a utilizzare il macchinario replicativo delle cellule perché un virus ci usa nella misura in cui noi gli forniamo la macchina di replicazione quindi deve imparare a farsi replicare uno dei passaggi fondamentali che questo virus fa molto similmente ai virus influenzali più pericolosi e che si fa vedete c'è scritto l'ifurina utilizza le nostre proteine per farsi spogliare dal suo equipaggiamento esterno dal suo dalla sua capsula e replicare allora capite che questo non l'ha imparato in un giorno allora questo è un punto fondamentale noi dal 2015 sappiamo e questo è un articolo ormai divulgativo del 2017 che in queste famose grotte dello Yunnan ci sono dei virus del pipistrello che hanno ormai vedete la frase giù in basso io vado per sommi capi hanno già imparato a trasmettersi agli uomini a passare all'uomo quindi hanno già questa capacità dove l'abbiano assunta beh per esempio c'è tutta una storia per cui alcuni minatori eh di quelle grotte erano stati analizzati e si era visto che eh erano già in qualche misura eh contagiosi ma insomma c'è tante di quelle storie la cosa che noi dobbiamo capire però è che non dobbiamo più permettere a mio parere a qualcuno di mettere in dubbio che questo è un virus che da anni si aspettava e che è un vero pandemico più lo si studia e vi faccio vedere non vado nei dettagli ma per farvi capire vedete quando cambia un singolo amminoacido sulla punta della del del sito di combinazione quello che attacca la il binding no il sito che ci gli permette di attaccare le nostre cellule basta che cambia in amminoacido che diventa immediatamente più contagioso e allora tutto questo lui lo impara via via uno dei problemi perché questo è importante perché più circola il virus nelle popolazioni più impara e fa le sue mutazioni quindi bisogna ridurre anche per questo la circolazione del virus bisogna vedere ma questo è l'ultimo dei problemi che voglio affrontare oggi se l'eventuale vaccino può fare questo eh se l'immunità cosiddetta di gregge acquisita per via di immunoprofilassi attiva eh diciamo di tipo eh artificiale come avviene con i vaccini può impedire questo tipo di evoluzione del virus e questo adesso poi ce lo chiediamo tra qualche minuto per ora quello che mi premeva è noi da anni io mi sono occupato molto di questi virus negli ultimi anni meno perché non c'era l'immediata percezione devo dire eh e non entro nelle polemiche che il piano eh diciamo pandemico in Italia non fosse stato aggiornato lo sapevamo in questi anni sapevamo anche e io non credo che le responsabilità che sono state date al singolo da alcuni servizi siano la verità la verità è che in questo paese come in altri paesi occidentali gli esperti perché questi sono i veri responsabili non i politici che passano e che non sanno e chi si affidano gli esperti in materia non sono stati consultati in questi anni ehm a differenza di come è avvenuto per esempio non solo nei paesi asiatici dove gli esperti veri ci sono perché sono abituati ad affrontare questi problemi e lo abbiamo visto ma anche in Germania l'istituto Koch fin dall'inizio le ha dette queste cose hanno saputo almeno in parte difendersi eh un'altra cosa vedete questi siti che sono assolutamente divulgativi sono online qui si vede tutto il modo in cui il virus ha è evoluto in questi mesi quindi quando qualcuno dice perché io ho letto di quelle stupidaggini online dicono ah nessuno ha dimostrato perfino l'esistenza di questo virus non si è mai isolato ma io non so di che cosa parlino forse immagino che il virus lo devono vedere nel vetrino i virus ovunque nelle popolazioni dove sta dilagando viene riconosciuto e tutti lo sapete adesso parleremo un attimo dei tamponi e il tampone ti dà alcune sequenze che vengono amplificate dovrebbero essere amplificate in modo quantitativo e il tampone dovrebbe dirci se tu hai in gola una quantità significativa o se tu devi fare molti cicli di replicazione quello è un errore clamoroso non il tampone in sé il tampone è necessario il tampone ha una sicurezza del 70 80 per cento fatto in modo periferico ma soprattutto il tampone quantitativo che viene a mancare ma queste quantità su cosa vengono fatte lo dico perché replico a tutta una serie di a me a me pariano veramente sciocchezze ma molto spesso sono strumentali delle persone che non sapendo tutto questo dicono i tamponi vedono tutto tranne che quello che dovrebbero vedere noi tamponi vedono le sequenze le riconoscono mediante una tecnica che tutti sapete che è una tecnica di amplificazione dovrebbero essere quantitativi ma in tutto il mondo vedete che le sequenze vengono fatte anche per esteso non c'è solo il tampone in moltissimi laboratorio si fa l'intera sequenza e si vede se muta altra cosa quindi sono tutte queste sono tutti i ceppi mutati negli ultimi mesi se andate su next train vedete queste per esempio nel febbraio del 25 febbraio del 2020 questa era in spagna una mutazione importante della stata segnalata e ce ne sono centinaia migliaia perché perché quando questi che dicono il virus non è stato mai riconosciuto immaginano la bestiolina loro evidentemente non sanno che eh si tratta si chiama cosiddetta quasi species non esiste un virus non è che noi quando abbiamo in gola il virus ne abbiamo uno chiaramente ne abbiamo miliardi ma soprattutto tutti questi sono diversi tra di loro hanno piccole mutazioni variazioni della sequenza per cui ognuno di noi ha mh vari sottotipi virali questo vale per molti di questi virus a RNA che come sapete sono molto instabili e mutano continuamente il genoma del coronavirus è un genoma piuttosto grande relativamente stabile tra l'altro rispetto al per esempio ai retrovirus dell'AIDS ehm alla HIV o il retro o gli oxtomix virus per esempio dell'influenza però comunque sia la sua bella capacità di mutare ce l'ha dal febbraio gennaio veramente dal dieci gennaio se vedete le date ci sono già delle sequenze a gennaio vedete Svezia gennaio duemila e venti guardate che noi avevamo sequenze di tutto il mondo già a gennaio c'erano casi segnalati in Canada in Australia in Svezia in Brasile non lo si era cercato purtroppo inizialmente in Italia perché noi eravamo convinti chissà perché che il pericolo non ci fosse però da metà gennaio quando prima da Wuhan poi dall'istituto Pasteur è venuta la conferma chi si occupava di questi virus e ve lo posso assicurare si è attaccato al telefono ha provato in tutti i modi a dire prepariamo i tamponi diamoci una smossa rischiamo una pandemia gravissima altrimenti e credo che Giorgio possa testimoniarlo a fine di febbraio quando mi pigliavano lui stesso penso un po da matto perché perché continuavano tutti a dire non c'è pericolo io ricordo una trasmissione del 22 febbraio eravamo insieme a Spezia per un convegno la sera ho sentito non faccio nomi perché non faccio mai nomi molti dei cosiddetti esperti italiani dire ma quale problema c'è ma è un virus parainfluenzale ecco con questa storia alle spalle con questa storia che invece dal 2017 stavamo seguendo vedete addirittura 2015 come vedete si era fatto una gran polemica che poi è stata ripresa dicendo a perfino TG3 ha fatto uno studio e ha fatto vedere questo qua vi ricordate su TG Leonardo nel 2015 sapevano già ma cosa sapevano sapevamo che il coronavirus è un virus eh pericolo diventato pericoloso dal momento in cui nel 2002 il primo quello della SARS aveva si era dimostrato potenzialmente molto in grado di innescare una risposta immunofiammatoria di tipo citochine per intenderci gravissima che i vecchi coronavirus quelli che circolano sempre non facevano quindi è chiaro che gli si studiava è giusto o non è giusto che ci siano laboratori di terzo e soprattutto di quarto livello come questi che fanno delle modifiche genetiche al virus per vedere che cosa succede e ovviamente sul piano etico noi vorremmo che questo non esistesse ma sul piano pratico cosa succede se per esempio come si è cercato di fare nel 2015 eh si fa una moratoria e i laboratori vengono bloccati e non si può lavorare più in questo senso succede che tutti fanno i bravi succede che gli i laboratori controllati vengono bloccati e chiaramente ci saranno quelli che non sono controllati che continuano capito di che cosa sto parlando quindi non se ne esce purtroppo che ci piaccia o meno questi virus ricombinanti mutanti ci sono qualcuno ha lanciato l'allarme per esempio Montagnè a mio parere ha sbagliato clamorosamente perché ha confuso in quel caso le le cose utilizzando un articolo che poi giustamente è stato è stato ritrattato che era questo che era un articolo essenzialmente sbagliato che aveva riconosciuto alcune sequenze nel virus nuovo che erano tipiche anche dell'HIV ma di altre centinaia di virus perché sono quelle sequenze che vengono nei virus utilizzate per agganciare l'uomo quindi era una notizia eh in qualche modo sbagliata come erano totalmente sbagliate le notizie di quest'estate anche lì ve le ricorderete di quelli che dicevano il virus si è addormentato non dà più problemi eh naturalmente sta evolvendo verso forme meno pericolose ma di cosa stiamo parlando prima di tutto un virus pandemico difficilmente al nella prima fase nei primi mesi nei primi anni fa mutazioni che lo addormentano questa non è non è scienza sono discorsi puramente ipotetici l'uniche mutazioni che avevamo trovato fin dall'inizio per esempio era questa qui vedete nei paesi iniziali nel nel primo outbreak a gennaio febbraio c'era in una certa posizione l'acido aspartico poi in quella stessa posizione vedete di 614 g significa che l'aspartico viene trasformato in glicina a questo punto quando passa in Europa il virus diventa molto più contagioso quello che era successo nel periodo diciamo di fine prima ondata casomai è che il virus che stava dilagando in Brasile negli Stati Uniti che era terrificante come capacità di contagio era il nuovo virus vedete in blu le zone sulle cartine e a sinistra vedete anche in Italia ormai circolava solo quello blu qual era la differenza è che in estate dopo il lockdown dopo la grande attenzione anche la paura soprattutto degli anziani chiaramente il virus circolava solo tra i giovani circolava tra le persone che ormai lo sappiamo tendenzialmente sono asintomatici ma il virus in gola ce l'avevano quindi non abbiamo fermato la catena dei contagi a luglio agosto anzi l'abbiamo fatta ripartire dopo tutti i sacrifici fatti da marzo a giugno quelli di noi che chiedevano state attenti e non si può fare un'estate normale non si possono aprire discoteche sono stati presi per uccelli del malagurio per dirlo in modo semplice o peggio e invece era evidente perché perché il pianeta è uno tra l'altro per cui se noi avevamo una crescita continua in Brasile in India in altri paesi è chiaro che non è che noi fossimo su un altro pianeta allora c'erano vari motivi per cui dovevamo stare attenti vi faccio vedere anche alcune immagini questa è fondamentale è la durata dell'importanza di fare per esempio il tampone nel momento giusto il tampone nella prima settimana dopo aver incontrato il virus generalmente non è positivo ci vuole cinque sei sette giorni perché lo diventi ora già questo pensateci lo sapete immagino che senso ha fare il tampone a tappeto a tanta gente non mirato senza un'anamnesi e senza un minimo di attenzione di sintomatologia cosa bisognava fare in estate lo avevamo chiesto come società italiana di pediatria preventiva e sociale preparare 20 30 milioni di tamponi perché a settembre a ottobre si potesse fare il monitoraggio ma non facendo tamponi inutili a tutti quelli che giravano per gli aeroporti ma facendo il tampone a quelli che avevano avuto anamnesticamente contatto con qualcuno cinque sei giorni prima capite che era tutta un'altra cosa da fare ma lo si può fare se c'è un sistema che è già adattato se c'è un monitoraggio messo in campo che non c'è non c'è neanche adesso perché il monitoraggio lo hanno fatto i paesi asiatici e il monitoraggio lo si fa in due modi si fa un centro che abbia il database della casistica nazionale e nello stesso tempo sul 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 territorio migliaia di operatori che facciano il tracciamento è evidente che il sistema sanitario non lo può fare quindi è evidente che questo tracciamento lo devono fare dei volontari degli studenti dei giovani capite allora si può fare questo ma si deve fare se vogliamo fermare una pandemia chi lo ha fatto l'hanno fatto i cinesi l'hanno fatto a taiwan l'hanno fatto tutti i paesi asiatici noi non si sa perché pensavamo di fare il tracciamento con l'app come se l'app da sola potesse funzionare non funziona così quindi e dicevo questo grafico è importante perché ci fa vedere che in seconda settimana dopo il contagio il tampone comincia a diventare positivo il momento in cui il tampone è più positivo è come vedete qui alla fine della seconda settimana dall'inizio da dopo il contagio vedete è lì che diventa quando comincia la sintomatologia o uno due giorni dopo e per circa cinque sei giorni ha il livello massimo cosa significa significa che in quel momento la persona è particolarmente contagiosa perché perché contagiosa nella misura in cui il virus è proliferante in gola e lo sottolineo questo vale per quelli che sono sintomatici e per quello che non lo sono lo sapevamo lo sapevamo da aprile a questo punto e per concludere questo questa diapositiva che a mio parere è orientativa ma è molto ben fatta mi pare che fosse su nature vedete che alla fine della prima settimana dei sintomi che quindi è la fine della terza dopo il contatto cominciano e cominciano solo a quel punto quindi siamo a 21 giorni dopo l'incontro col virus a formarsi gli anticorpi che senso ha fare gli anticorpi prima gli anticorpi cominciano a formarsi è interessante che come vedete in questo caso non è di solito così ma in questo caso le IgG aumentano subito dopo le IgM le IgM durano comunque abbastanza e le IgG poi dovrebbero durare a lungo si riducono anche loro ma lentamente allora tutti questi dati dovremmo saperli a memoria per capire anziché fino a ieri avere qualcuno che mi dice ma che dici io anziché fare il tampone faccio la sierologia così no sono due cose totalmente diverse anziché dire il tampone non serve il tampone serve è l'unica possibilità che abbiamo la possibilità di fare degli antigeni rapidi può essere utile in certe comunità sono meno sicuri però in generale perché può essere utile fare il tampone rapido perché quando è positivo può essere positivo anche quando in gola ci sono pochi virus questo è un vantaggio tutto sommato poi ovviamente bisogna confermarlo col tampone molecolare ora spero di essere stato chiaro su questi passaggi lo sto facendo un po' di corsa poi se volete mi fate qualche domanda più specifica però sono concetti che avremmo dovuto fin da aprire avere qualcuno che andava in televisione ci diceva guardate che le cose sono così guardase che per esempio esistono i cosiddetti super spreaders questi li conosciamo dal 2003 cos'è il super spreaders in realtà si è visto che i contagi sono sempre dovuti a una a una piccola quantità di persone che possono essere isolate e riconosciute solo se si fa il tracciamento cosa che noi non facciamo ancora per cui avremmo riconosciuto le persone che erano causa di 10 100 contagi quelle immediatamente attorno a loro si verificava come con un tampone quantitativo il tampone quantitativo significa quello che vi dice voi siete positivi virgola ma siete positivi dopo cinque cicli di amplificazione non dopo 40 perché uno può essere anche dopo due mesi che ha in gola ancora qualche traccia di virus e lo si verifica con 40 amplificazioni o con 50 ma quello non è più contagioso se ne può anche uscire ora capite che tenere ingabbiate persone per mesi solo perché c'è un tampone positivo che dice solo tracce di virus è un altro errore clamoroso allora tutti questi errori perché li abbiamo fatti proprio perché non avevamo qualcuno che aveva fatto rinnovato il piano pandemico lo aveva messo in chiaro aveva potuto fare anche un'informazione corretta e una formazione corretta dove a livello pubblico per cui per esempio i giovani io non è che voglia giustificare ma io tutto sommato li capisco hanno pensato come anche molta gente ci hanno preso in giro continuano a fare a farci paura non è paura dovemmo essere responsabili e consapevoli e capire che se altri paesi e ripeto la cina taiwan eh Hong Kong la Cambogia il Vietnam hanno avuto dieci morti e noi ne abbiamo avuto quarantacinque mila è perché noi qualcosa abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare ma non perché il virus da loro è più buono che da noi quindi lo si sarebbe potuto dominare mettendo in campo un'organizzazione sanitaria diversa che consta di tre cose lo dico subito perché l'abbiamo chiesto più volte non ottenuto primo si fanno dei percorsi alternativi il virus non deve entrare negli ospedali non deve entrare negli ambulatori non deve entrare nei pronto soccorsi ma i percorsi alternativi devono avere anche non la tenda davanti all'ospedale quando c'è ma devono essere veramente dei percorsi per esempio io da febbraio chiediamo agli ospedali militari cioè luoghi in cui chi ha il dubbio o chi ha avuto il contatto nella fase iniziale quando ci sono in un paese come il nostro tremila casi non quando ce ne sono 40 50 mila al giorno in quel momento si può fare il tracciamento la persona che riceve il tampone rimane in osservazione se è positiva rimane in quarantena le persone attorno a lei vengono contattate fanno il tampone si bloccano i cluster subito dopodiché le persone che devono essere trattate non stanno a casa loro perché di fatto continuano a portare il virus stanno in questo luogo per qualche giorno fino a quando non hanno un tampone positivo con alta replicazione per questo bisogna farlo quantitativo tutto questo non è stato fatto allora è per concludere questo frammento iniziale poi ne facciamo un secondo che è quello delle prospettive quello che dobbiamo dirci è per favore basta col dire tutti quello che pensiamo ci sono illustri o non illustri virologhi che sproloquiano e dicono il virus è terrificante quelli che dicono il virus è banale il virus è terrificante potenzialmente quando raggiunge i polmoni in quantità alta e nelle persone che hanno già unendo una disfunzione endoteliale pregressa cioè i fumatori le persone con sindrome metabolica le persone che hanno comunque l'endotelio infiammato per esempio dal particolato ultrafine dai metalli pesanti come succede in regioni come purtroppo la lombardia queste persone con grande frequenza fanno forme gravi perché perché questo virus è capace di fare da trigger e da scatenare delle reazioni immunofiammatorie veramente gravissime quello che si è visto per esempio e se voi andate a vedere sono tutti articoli questi di aprile maggio giugno quindi sono tutte cose che sapevamo già allora guardate com'è in media più alta la carica virale delle persone che poi sono decedute è sempre così è lo stesso punto che è fondamentale la carica virale alta ce l'hanno spesso anche i bambini e i giovani alcuni ce l'hanno altri no dipende da quello che avviene nel momento del contagio e della situazione specifica ma anche i bambini che poi non fanno casi gravi se non rarissimi perché hanno un sistema immunocompetente che reagisce bene in maniera molto più equilibrata del resto lo sapevano anche le nostre nonne quando esponevano i bambini piccoli al virus del morbillo agli altri virus sapendo che alla fine non avrebbero avuto problemi gravi a due anni a tre anni mentre a vent'anni si figuriamoci a 70 80 un virus del tutto nuovo in grado di scatenare questa roba in una persona che ha già una disfunzione endoteliale ecco questo è il quadro quindi i bambini e questo ve lo salto perché non è specificamente su questo tranne nei casi ecco qui ed è importante per esempio nei giorni della grande circolazione a bergamo o a londra o a new york c'è stato una serie di casi credo che siano state poche centinaia alla fine di bambini con simil kawasaki cioè questa è già una forma che fa capire che anche il bambino quando incontra una carica virale altissima eppure non avendo una disfunzione endoteliale di base può fare una di una endotelite distrettuale grave come la kawasaki di solito però alla fine tutte queste sono forme contenute quindi il bambino e in realtà direi anche i giovani anche se come avete capito qualche purtroppo decesso a 30 40 anni c'è in tutto il pianeta però per ora per fortuna è una minoranza comunque questo ci deve indurre a capire che la situazione non è assolutamente né risolta né chiarita fino in fondo l'ultimo passaggio e poi magari ci fermiamo vi faccio vedere due cose prima il problema del vaccino anche qui e non faccio nomi e cognomi io credo io grande stima di crisanti lo dico perché questo nome lo faccio è l'unico che faccio perché fin dall'inizio mi sono trovato d'accordo su molte sue analisi lo fa in maniera molto semplice direi quasi ingenua è una persona corretta è una persona competente non capisco questa aggressione a crisanti è voluta chiaramente perché quello che lui intendeva dire è noi ancora sul vaccino lo sappiamo da mesi e lo diciamo se voi vedete sull'ansett ci sono vari articoli noi dobbiamo stare attenti prima di avere di annunciare che il vaccino risolverà tutto dobbiamo sapere che non si deve correre ci sono vari tipi di vaccinazione virus inattivati virus indeboliti e questi sono pericolosi e infatti credo che non siano possibili usare dei virus vivi attenuati perché il virus vivo attenuato in una situazione come questa rischia di diventare un boomerang perché perfino il il vaccino sebin come forse alcuni di voi sanno rischiava di diventare un pandemico e l'hanno dovuto togliere in realtà per questo perché un virus vivo attenuato rischia di riprendersi le sequenze che gli togliamo di diventa quindi immaginate in pandemia quindi per questo si è scelto di fare dei virus che sono obiettivamente sperimentali dei vaccini scusate allora il vaccino sperimentale è o inattivato è ok ma soprattutto è l'utilizzo di proteine o virali o di direttamente di acidi nucleici virali che è quello che si sta provando a fare hanno vantaggi o svantaggi allora hanno lo svantaggio di essere comunque sperimentali hanno però una serie di vantaggi che vanno sottolineati sperando poi che tutto proceda per il meglio ma necessitano di un periodo di prova più attenta e secondo me anche più prolungata ed era questo che voleva dire crisanti non è che crisanti improvvisamente dice no al vaccino dice semplicemente noi ce lo dobbiamo dire ce lo diciamo da mesi prima di utilizzare un vaccino va non fatto su settanta e poi su duemila o su diecimila persone va fatto in maniera molto attenta con tutti i passaggi dobbiamo avere la verifica per esempio che tipo di immunità da e da un'immunità stabile da un'immunità prolungata è un vaccino che veramente non ha rischi visto che qualche rischio c'è sempre lo sappiamo abbiamo purtroppo avuto per esempio per alcuni vaccini come quello della dengue una sperimentazione affrettata e sono purtroppo abbiamo avuto degli incidenti gravi di percorso in questo caso però non bisogna neanche cedere nell'altra direzione di dire ci vogliono dare un vaccino che ci modifica geneticamente la popolazione umana se questo vaccino ha delle caratteristiche eh ancora sperimentali e anche fa parte di una serie di vaccini che in realtà in laboratorio sono stati utilizzati con grande sperimentazione e con grande cautela da trent'anni i primi virus i primi vaccini a RNA per esempio erano stati eh provati negli laboratori e sugli animali che ci piaccio meno si deve fare così nel novanta novanta due a lungo non sono stati usati proprio perché di solito perché un vaccino si mette in campo ci vogliono anni ma negli ultimi anni noi sapevamo quelli che si occupano un po' di queste cose che la grande possibilità eh in questo tipo di situazioni sono questi vaccini perché perché in generale il virus eh come tale è molto più pericoloso eh del resto anche usare degli altri virus come gli adenovirus per esempio il vaccino di Oxford comporta dei rischi non secondari e il vaccino di Oxford per esempio utilizza un adenovirus di scimmie ora che ci piaccia o meno è pericolosa la possibilità di avere delle reazioni crociate contro quell'altro virus quindi questo virus a RNA è promettente io dico soltanto questo per ora è promettente perché l'RNA M è usato dal virus entra nelle cellule al novantanove per cento per ora direi che è esclusa e vedremo ma appunto questa è una delle cose da verificare il fatto che questo virus a RNA possa questa RNA virale questo frammento di RNA messaggero che codifica solo per la proteina spike in pratica possa entrare nel nostro DNA come qualcuno ha ventilato e modificarci geneticamente non è mai successo finora e negli esperimenti nelle prove andrà ovviamente dimostrata la non possibilità ora eh tutto questo per dire è troppo presto per prendere posizione quello che voleva dire Crisanti è questo andiamo con cautela è vero che dobbiamo uscirne quanto prima ma uscirne con quanto prima non significa saltare i passaggi di verifica io penso che sia giusto dire questo e dire però se c'è la possibilità nei prossimi mesi o anni di arrivare a provare veramente in modo sempre più chiaro che questo può farci uscire dal problema e beh allora è inutile avere dei preconcetti o addirittura ora però a questo punto due o tre considerazioni che penso che tutti abbiamo fatto primo non solo non si può rischiare ma soprattutto non si può rischiare di mettere in campo primo un vaccino troppo debole perché anche questo è un errore clamoroso poniamo che non difende non non faccia da la gente si vaccina è convinta di avere superato il problema dopodiché si espone e gli viene e siamo peggio quindi bisogna valutare e credo ancora una volta che Crisanti si riferisse a questo sia la avere cautela nella sperimentazione della sicurezza e dell'efficacia sia evitare che si vaccinino milioni o miliardi di persone perché c'è la pressione di qualcuno a farlo ora chiaramente Crisanti da questo punto di vista e chiunque per lui non ha fatto altro che chiedere un po' più di rispetto rispetto al fatto che una casa una ditta una multinazionale come Pfizer che ovviamente c'ha interessi enormi in questo caso per superare le altre perché guardate che tra l'altro il vaccino di Moderna che non è un vaccino da poco perché è molto è quasi uguale ma per di più ha delle caratteristiche anche superiori probabilmente a questo punto è stato superato dall'annuncio perché ormai la realtà è quella virtuale allora dette queste cose e ovviamente ce ne sono tante altre per esempio un vaccino che protegge il singolo è detto che lo protegga verso la malattia sì ma per quanto tempo ma soprattutto è sicuro che un vaccino che mi protegge mi rende anche poco contagioso per gli altri beh questo ancora non è sicuro perché per molti vaccini si sa che uno è protetto ma può avere il virus in gola e trasmetterlo capite che ci sono tante incognite che nei prossimi mesi dovremo verificare e teoricamente a mio parere è ancora una volta da questo punto di vista ragione crisanti non ha senso investire milioni di euro subito nel primo vaccino se noi riusciamo nel giro di due tre mesi ad avere le garanzie che questo è il migliore possibile allora è inutile però fare la guerra perché noi non ci vogliamo vaccinare speriamo di arrivare a una soluzione efficace e sicura le verifiche ci vogliono in questo momento è ultimo però passaggio dobbiamo anche essere convinti che se il sistema non viene adeguato a un'emergenza pandemica reale o possibile nel senso che se domani poniamo ripartisse il virus in forma mutata o ne arrivasse un altro perché tutto è possibile noi non possiamo ricominciare fa sei mesi a fare lockdown e a crollare di nuovo tutti dobbiamo avere un sistema che è in grado questa volta di reagire come hanno fatto i cinesi e come hanno fatto gli altri credo che tutto questo sia elementare penso che sia condivisibile l'ultima cosa che vi faccio vedere è quando a settembre ci si era chiesto e questo è science ma non stiamo rischiando di arrivare in seconda ondata perché lo chiedeva science perché se noi andiamo a vedere e io questo l'avevo pubblicato in un articolo sul wall street magazine international questi articoli se volete poi ve li faccio avere tutti ovviamente questo avevamo già cominciato a vedere vedete le curve spagna francia cecoslovacchia a settembre stava già cominciando l'italia un po più debolmente ma al momento in cui comincia a vedere le curve che stanno aumentando in tutti i paesi d'europa è chiaro che già a settembre noi ci stavamo avvicinando verso una seconda ondata e non c'è bisogno che vi faccio vedere tutte le analisi dei dati vi faccio vedere subito questa e cioè che già a metà ottobre sapevamo che noi ci aspettavamo da un giorno all'altro la la curva esponenziale perché quando tu hai ogni giorno da mille passa a duemila da duemila passa a quattromila allora è chiaro che dopo una settimana ti trovi a trentamila e siccome c'è un parallelismo tra il numero dei casi e dopo 15 20 giorni purtroppo i ricoveri in terapia intensiva e dopo qualche giorno ancora l'aumento dei decessi noi eravamo arrivati questa l'avamo fatto a ottobre a vedere che già intorno al 10 15 novembre avremmo avuto 15 600 morti 500 600 morti quindi ancora una volta non è un problema di inventare le cose se si lavora e si analizza noi a metà settembre avremmo potuto e dovuto fare dieci giorni non due mesi come adesso di nuovo ci troviamo di lockdown fatto bene e avremmo rallentato tutto ma lo dico e lo sottolineo il lockdown come tale è un suicidio se non si fa il sistema se non si mette in sicurezza il sistema e non si fa finalmente un sistema di monitoraggio adeguato che è l'unico che veramente bloccherà quando lo faremo la pandemia ora su tutto questo questo l'abbiamo riproposto recentemente come società italiana di pediatria in teoria credo che sia stato visionato per l'ennesima volta perché la terza volta che lo mando che lo mandiamo e il cts lo dovrebbe avere li abbiamo corredato questa volta di questo articolo che è uscito da poco sull'anset che fa vedere che quello che hanno fatto i paesi asiatici sono esattamente queste cose che noi chiediamo e che devono essere fatte vi do l'ultimo input e che è una cosa così ipotetica qualche giorno fa abbiamo avuto per la giornata mondiale della prematurità una conferenza a mio parere molto interessante la riprenderemo perché giorgio mi propone di fare un incontro sui primi mille giorni di vita anche legata a questo problema io ci sono quindi non ve l'anticipo per ora vi dico soltanto due tre cose chiaramente bisogna andare a vedere e ci sono i primi dati che cosa sta succedendo nelle placente che cosa sta succedendo perché quello che sono gli effetti di placente per esempio con deposizione perivillosa di fibrina con infiammazione con citochine eccetera noi lo vedremo non adesso nel feto e poi nel neonato anche se già stanno cominciando ad aumentare i parti prematuri eccetera lo vedremo per quello che è la teoria delle origini fetali delle malattie fa anni quindi è adesso ancora una volta che si fa la prevenzione perché questi anticorpi e queste citochine che le mamme che magari neanche lo sanno sono positive e non sono e non sono sintomatiche per esempio chiaramente durante la gravidanza sono pericolose come forse cristina vi ha detto di la prima parte l'ho persa ma insomma come cerchiamo da tanto tempo di far vedere c'è sempre una componente infiammatoria una gliosi reattiva nell'autismo nella schizofrenia però gli effetti si vedono dopo anni e così vale per tutte le patologie quindi morale della favola sappiamo tutto questo lo dobbiamo mettere a fuoco se volete ne parliamo con un incontro dedicato io oggi credo di avere spero interpretato bene quello che era un po' la mission impossibile era darvi in questo frangente le notizie proprio di base per capire a che punto siamo e cosa dobbiamo fare soprattutto per evitare una seconda ondata veramente catastrofica come è successo nel 1918 è inutile che ne parliamo così se come se prevalesse l'idea di qualcuno mi riferisco a Trump all'inizio a Johnson all'inizio a qualche altro nostro collega che ha continuato a dire il virus è banale eccetera se lo avessimo lasciato andare il virus noi avremmo rischiato di avere io lo dico assolutamente con convinzione non un milione e quattrocentomila morti come finora è ufficialmente probabilmente sono di più ma ne avremmo avuto milioni come è successo nel 18 quindi cerchiamo di stare molto attenti ma soprattutto pretendiamo se così si può dire che il sistema venga messo in sicurezza e che la si smetta con fare dei lockdown parziali periodici che ogni volta rallentano l'epidemia che ci chiudono in casa eccetera il sistema va adeguato la vaccinazione è importante quando è sicura ed efficace e speriamo che sia veramente nel 2021 ma non ci illudiamo di fermare la pandemia con la vaccinazione perché non è così la si ferma con un sistema sanitario adeguato la vaccinazione è una delle componenti importanti grazie a tutti